C'è qualcuno in casa o ti aspetto? Ogni fine settimana ci riposiamo. Alcuni insetti vivono un solo giorno. Ho qualche speranza di vincere. Conosci alcuni dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca. Faccio un regalo a ognuno di voi. Alcune di loro sono molto belle. Qualche settimana fa ho viaggiato. Conosco alcune parole in italiano. Ogni giorno vado a scuola in bici. Qualche volta Maria mente a tutti. Alcuni di loro vanno al cinema. Alcuni studenti studiano bene. Certamente. Certo. Semplice. Semplicemente. Facilmente. Facile. Popolare. Popolarmente. Felicemente. Felice. Leggero. Leggero. Leggermente. Enorme. Enormemente. Altrimenti. Altro. Altro. Preciso. Precisamente. Specialmente. Specialmente. Speciale. Utile. Utilmente. veramente. 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 Lento. Lentamente. Ultimo. Ultimamente. Voluto. Volutamente, tristemente, triste, vero, veramente, urgente, urgentemente, difficilmente, difficile, pesante, pesantemente, comune, comunemente, mio cugino sa parlare lo spagnolo, io non conosco tanta gente qui, tu sai dov'è la stazione dei bus? Noi conosciamo un buon ristorante, loro non sanno il mio indirizzo, tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città. So che lui si è diplomato. Noi non conosciamo il tuo collega. Io non so parlare il giapponese. Io non conosco il giapponese. Voi non sapete quanto ho pagato. Oggi ho conosciuto molti studenti. Tu sai come si cucina il pollo. Mia zia conosce una ricetta buona. Tu non conosci nessuno di Napoli? Lui non sa quanto guadagno. Non so cosa ci sia in quella busta. Ho visto un uomo che non conosco. Il cane sa prendere una pallina. Il treno va a Palermo. Il treno va a Palermo. Palermo è in Sicilia. Io viaggio in seconda classe. Alcuni stanno in piedi. Nessuno sta nei corridoi. Altri siedono nelle stanze. Noi camminiamo per il treno. Devo andare al bagno. Ho il biglietto nella borsa. Tu lo tieni in tasca. Luca lo cerca sotto il sedile. Forse lo ha perso al bar. Il treno viaggia sui binari. Noi scendiamo dal treno. A lui non piace il sole. Non lo capisco. Massimo vuole andare a Parigi a maggio. Adesso Elena ha una macchina nuova. A pensarci meglio. Voglio una pizza. Secondo me ha torto, ma sembra convinto. Stiamo andando a mangiare fuori. Melania ha paura di prendere l'aereo. Luca ha due cani e un gatto molto vecchio. In estate andiamo a visitare Firenze. Lei ha molte cose da fare domattina. A sentire lui dovremmo cucinare a casa. Penso che a volte ci voglia una pausa. Ho visto tua cugina lavare la macchina. Non è in casa. Ha mandato un messaggio. Io cantavo. Cantassi. Io facevo. Facessi. Io stavo. Stessi. Lui era. Fosse. Lui cominciava. Cominciasse. Lui leggeva. Leggesse. Io dicevo. Dicessi. Noi bevevamo. Bevessimo. Noi davamo. Dessimo. Io guardavo. Guardassi. Tu capivi. Capissi. Io bevevo. Bevessi. Bevessi. Tu dormivi. Dormissi. Tu vedevi. Vedessi. Tu eri. Fossi. Lei aveva. Avesse. Noi davamo. Noi davamo. Dessimo. Lui faceva. Facesse. Voi eravate. Foste. Voi uscivate. Usciste. Lei diceva. Dicesse. Noi sapevamo. Noi sapevamo. Sapessimo. Voi potevate. Poteste. Noi pagavamo. Pagassimo. Voi mangiavate. Mangiaste. Loro arrivavano. Arrivassero. Loro venivano. Venissero. Loro avevano. Avessero. Io incontrerò. Tu incontrerai. Lui, lei incontrerà. Noi incontreremo. Voi incontrerete. Loro incontreranno. Io metterò. Tu metterai. Lui, lei metterà. Noi metteremo. Voi metterete. Loro metteranno. Io sentirò. Tu sentirai. Lui, lei sentirà. Noi sentiremo. Voi sentirete. Loro sentiranno. Io cercherò. Io cercherò. Tu cercherai. Lui, lei cercherà. Noi cercheremo. Voi cercherete. Loro cercheranno. Io pagherò. Tu pagherai. Lui, lei pagherà. Noi pagheremo. Voi pagherete. Loro pagheranno. Io comincerò. Tu comincerai. Lui, lei comincerà. Noi cominceremo. Voi comincerete. Loro cominceranno. Io mangerò. Tu mangerai. Lui, lei mangerà. Noi mangeremo. Voi mangerete. Loro mangeranno. Hai pensato alla mia proposta? No, non ci ho pensato. A che ora sei andata dal dottore? Ci sono andata alle 18. Quante sigarette hai fumato? Ne ho fumate solo due. Avete pensato alla vostra famiglia? Sì, ci abbiamo pensato molto. Hai spedito molte domande di lavoro? Ne ho spedite almeno 20. Quando siete andati al cinema? Ci siamo andati sabato. Signora, ha creduto alle sue parole? No, non ci ho creduto affatto. Quanti esercizi avete fatto? Non ne abbiamo fatto nessuno. Ti sono piaciute le sue canzoni? Me ne sono piaciute solo due. Quanti posti a teatro hai riservato? Ne ho riservati quattro. Che ne dici di andare al mare? Sì, ci potremmo andare giovedì. Ci andiamo con la mia macchina? No. Che ne dici di andare in moto? Sei mai stato in Sicilia? No, non ci sono mai stato. Come fai a sapere queste cose? Me ne ha parlato un amico. Hai sentito le ultime notizie? Sì, non ci posso credere. Ti è piaciuto il tuo dolce? Molto, ne vorrei un altro. Suono, suonare, grido, gridare, bacio, baciare, ballo, ballare, odore, odorare. Gioco, giocare, guida, guidare, cucina, cucinare, amore, amare, pensiero, pensare, studio, studiare. Invito, invitare, viaggio, viaggiare, sbaglio, sbagliare, incontro, incontrare. Vedo che stai giocando. Suppongo che tu abbia finito di studiare. Spero che Luca abbia capito quello che volevo dire. Oggi Teresa dovrà sostenere l'esame di diritto. Mi auguro che lo superi. Pensi che questa sia la strada giusta? Io, invece, ho paura che sbagliamo. Dicono che Antonio abbia visto la sua ragazza con un altro. Si lasceranno? È opportuno che tu telefoni a Guido prima di andare a casa sua. Invece di chiacchierare nel corridoio, non è meglio che seguiate le lezioni? Non uscite senza l'ombrello. Temo che piova. Francesco, sono veramente felice che tu e Maria abbiate deciso di sposarvi. Lucia, non voglio assolutamente che tu esca con Marco. Penso che tu abbia la febbre. Hai gli occhi lucidi e una tosse da far paura. È bene che vada dal medico a farti visitare. Suppongo che Franco sappia quel che dice. Monica non è sicura che tutti paghino la loro quota di iscrizione. Non sono certa che le ragazze d'oggi conoscano le ricette tradizionali.